Ci troviamo oggi qui a Cascino Slerà, a Robassomero, ospiti della FARO, dove andremo a presentare l'iniziativa del 3 giugno del 2018 Tutti per uno, uno per tutti. Qui, a fianco a me, abbiamo la dottoressa Sabà, che ci presenterà quello che verrà il 3 giugno. Grazie. Allora, questo è un programma che noi ripetiamo per il terzo anno successivo. Siamo ospiti a Cascino Slerà. L'evento, appunto, Tutti per uno, uno per tutti, è riferito ad un progetto della Fondazione FARO, un progetto che è nato nel 2002 all'interno della Fondazione FARO e che poi è stato adottato dalla rete oncologica e si sta espandendo in tutto il Piemonte. Sono attività svolte alla raccolta fondi per questa iniziativa che rivolta alle famiglie che affrontano la malattia oncologica in momenti già di fragilità del loro nucleo familiare e quindi vuole essere un sostegno affinché anche queste famiglie che purtroppo possono aver avuto vicissitudine o avere delle fragilità nella loro famiglia, possono affrontare la malattia oncologica nel modo meno drammatico possibile, potendo permettersi tutte le terapie necessarie nel loro caso. Quest'iniziativa, quindi, che è rivolta alle famiglie, trae da questo momento di gioia che noi speriamo possa essere anche corredato da una giornata bella il 3 di giugno e sarà rivolto a tutte le famiglie che partecipano per famiglie che sono in difficoltà. Grazie